Si chiama Gustap ed è il nuovo strumento digitale dell'azienda del Monte Ristorazione, nato per facilitare la comunicazione con i clienti. Nell'app si potranno infatti trovare i menù delle menze scolastiche del comune di Lucca, con tutte le informazioni utili sui piatti e relativi valori nutrizionali. Le famiglie potranno accedervi da ogni genere di dispositivo, sfogliando facilmente tutti i dati. Oggi presentiamo la versione che sarà resa disponibile per tutti i genitori degli alunni del comune di Lucca. È una app che permette di aprire un canale di comunicazione con l'utenza, all'interno della quale saranno rappresentati tutti i menù giornalieri, tutte le caratteristiche alimentari dei vari prodotti e permetterà appunto di conoscere in tempo reale quella che sarà l'offerta gastronomica del giorno. È una app che verrà poi anche declinata per i nostri clienti privati e sarà anche utilizzata per i clienti privati per fare prenotazioni. È un nuovo canale di comunicazione moderno. L'app fornirà anche informazioni sulle materie prime, la programmazione dei menù giornaliari e settimanali, oltre a quelli delle diete speciali. Gustap diventerà presto uno strumento essenziale per le famiglie. In massima trasparenza le famiglie possono riconoscere e conoscere tutto dell'alimentazione e per quanto riguarda anche i pranzi precedenti e anche quelli successivi, in modo in maniera che anche le famiglie stesse possano acquistare e fare la spesa senza cavallare diciamo nutrimenti che possono essere già stati mangiati precedentemente a pranzo. Gustap può essere consultata all'indirizzo web della Del Monte Ristorazione di Lucca.